Sono Francesco Pistilli, sono un fotogiornalista italiano, freelance, sono qui a Web as Photo perché ho preso il terzo posto in General News Stories, con una storia su migranti a Belgrado, è una storia che è durata qualche mese, un gruppo di circa 1200 afghani e pakistani hanno vissuto alle spalle della stazione principale di Belgrado in capannoni abbandonati per tutto l'inverno del 2017, a cavallo dal 2016 al 2017 fino allo sgombero del territorio. Quel terreno apparteneva o era stato acquistato da Arabi per la costruzione di un mall, per cui quando è stato richiesto lo sgombero del terreno i ragazzi sono stati portati via o sono scappati fuori dall'area. Io ho visto la storia da un tweet di una mia collega giornalista che era a Belgrado e sono andato in Serbia e ho iniziato a documentare la vita difficilissima dentro dei capannoni abbandonati, con meno 20 gradi sotto zero, neve, ghiaccio all'esterno, nessun tipo di aiuto internazionale se non un gruppo di volontari che si chiama Hot Food di Domeni che avevo conosciuto ai Domeni, a confine tra Grecia e Macedonia, quando l'anno prima c'erano circa 12 mila persone bloccate in un campo informale, i ragazzi erano tutti europei, dall'Italia, dalla Spagna, Inghilterra, Germania, auto organizzati, erano gli unici che fornivano aiuto, un pasto al giorno caldo per i ragazzi. Le coperte, che erano uno degli elementi caratteristici perché erano tutti avvolti da coperte grigie, erano state distribuite da ONHCR, l'unico aiuto che è arrivato internazionale sul posto, né tende, né riscaldamento, nulla, e MSF che si preoccupava della situazione sanitaria con una clinica mobile. Per il resto abbandonati completamente da istituzioni, da chiunque, sono stati lì per mesi, io l'ho documentato per circa due settimane e la storia è finita su vari giornali, sul Time, sull'Espresso e alla fine al WordPress Photo, terzo posto. Partecipo ormai da anni al WordPress Photo, però sempre scoraggiato perché penso sempre che la storia non possa raggiungere un tipo di audience di quel tipo, perché le storie erano piccole, brevi, molto spesso brevi, perché sono un freelance e spesso i tempi sono molto stretti, perché mi autoproduco parte del lavoro e cerco di venderlo, per cui l'approccio è abbastanza rapido, cerco di portarmi a casa il miglior lavoro possibile, nel minor tempo possibile. Questa volta ero abbastanza entusiasta delle immagini, ero anche entusiasta della cronaca che ho fatto live, tipo su Stories, vedevo che i foto editor da giornali stranieri saranno interessati alla storia, il New York Times mi ha chiesto e ha pubblicato una clip video fatta con il mio telefono, il mio iPhone e a quel punto ho creduto un po' di più nel lavoro e l'ho inviato al WordPress Photo e il risultato ottenuto è molto interessante, sono felice di aver preso il terzo posto in General News, che è una delle categorie più complesse. Ho fatto il workshop con Maddalena Herrera al Fotolux e anche con Paolo Verzone, sempre al Fotolux e sì, il workshop con Maddalena mi è servito molto perché abbiamo editato questo lavoro insieme, abbiamo discusso, a volte anche in contrasto perché c'erano delle scelte che io non, su cui non ero molto d'accordo, soprattutto un paio di foto, una in particolare, in realtà questa foto poi funzionava all'interno dell'editing, dava ritmo, dava respiro alla storia in dieci foto, è molto complesso ridurre una storia di 25, 30, 35 foto a 10, o almeno per me è molto complesso, a volte ci si affeziona a delle foto e quindi è difficile staccarsi da certe immagini perché siamo legati per vari motivi, diciamo che lo sguardo di Maddalena e lo sguardo di Jenny è stato importante, ne abbiamo discusso per una giornata intera, l'abbiamo fatto, sfatto e rifatto varie volte, finché l'editing non funzionava e quando è funzionato ok, io ero convinto della storia, abbastanza convinto della storia e quello è stato poi in realtà l'editing che ho mandato al WordPress Photo. Ho iniziato in Argentina, ho fatto la prima esperienza di racconto, reportage fotografico in Argentina perché facevo un corso in realtà di fotografia commerciale di moda, che poi ho capito non essere la mia strada. Nel frattempo portavo avanti l'interesse per la fotografia documentaria, di reportage, ho fatto un primo lavoro dentro al manicomio di Buenos Aires, in pellicola, in diapositiva, un secondo lavoro in una favela, una viscia, così la chiamano in Argentina, un quartiere super disagiato, una baraccopoli praticamente, alle porte della capitale federale di Buenos Aires. I risultati erano buoni, le ho pubblicate, le foto, ho avuto ottimi feedback da chi mi stava insegnando un'altra cosa, cioè moda e fotografia commerciale. Sono stato invitato ad abbandonare quella strada a fine corso e a dedicarmi a un altro tipo di fotografia e poi tutto è fluido abbastanza naturalmente. Sono tornato, ho fatto un corso con contrasto di due o tre mesi, da lì ho capito come funzionava il mercato, come osservare le storie di interesse per l'editoria o storie di interesse per ONG o dipende dai clienti e da lì i lavori sono andati avanti, le pubblicazioni dalle piccole riviste alle grandi riviste. Negli anni mi sono spostato sulle grandi riviste fino ad arrivare a Time, New York Times, Le Monde ed altri, speriamo altri, molti altri. Ho iniziato sì con la pellicola, con la diapositiva, adesso lavoro solo in digitale.